A grandissima richiesta ragazzi, guardate un po' dove siamo, siamo nella gara di costruzione con i colori, ma quest'oggi dovremo costruire sopra i minerali. Ho aggiunto anche una nuova mod, Loccovini, che andiamo a vedere i minerali nuovi. Qua abbiamo questa mod qui, che è la mod dell'Alexandrite, poi qui abbiamo il, non so cosa sia, il Turmalin, questo qua che è il Carbonado, questo qua che è il Kunzite, questo qua che è il Topazio, questo sappiamo che esiste al 100%, l'Alexandrite penso pure. E questo è lo Zaffiro, quindi Locco avremo il solito tempo per completare più opere possibili, il tempo esattamente di, non lo so in realtà, vediamo un po'. È partito già il tempo! Bene! Si gode ragazzi! Allora, io so già che cosa voglio fare, io parto direttamente con, direi, il diamante. Ti porto quel diamante, ti ricordo che puoi utilizzare in questa sfida altri blocchi che non siano i diamanti. Ok, va bene. L'importante è che la cosa fondamentale siano i diamanti, ok. Io sto facendo una cosa molto chill qua, ti dico la verità, perché me l'hanno detto nei commenti, mi fanno Marci, ma guarda che loco, si comporta un po' meglio rispetto a te per quanto riguarda gnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnègnè, ok? Non ho capito cosa faccio io con niente. Perché generalmente tu fai delle cose un pochettino più carine, io faccio spesso solo case e quindi questa cosa non piace ai nostri amici. Ok ok sì 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 allora io considera che vorrei io non Non sapendo il timer forse anche meglio come cosa perché alla fine è l'ansia c'è l'ansia che Mi pervade tutto il corpo io considera che adesso ho un altro minecraft aperto ti dico solo questo arte Parando secondo te perché hai già delle cose fatte Copiando le cose copiando una spada in questo momento Basta che mette assinuate in frame davanti a te lo so vabbè però cos'è più facile faccio meno fatica almeno Eccolo facendo io come prima cosa per il ferro Dimmi io ero un golem gigante anch'io voglio fare ero un golem me lo sono segnato però lo voglio fare piccolissimo io abbastanza grande facendo in realtà Ci sta ci sta e qui facciamo così questo deve andare qui così e poi qua deve andare dritto giusto e facciamo 1 2 3 5 7 forse possa arrivare massimo finanza forse anche l'otto e il 9 possiamo fare otto e nove e anche dieci Mi vuoi dire la faccia io ti avviso che il mio ragione sarà un po sproporzionato rispetto al resto E vabbè fa niente fa niente posso riavviare No ok Secondo me è venuta una buona spada dai non è non è una grandissima spada devo dirti la verità però Poteva venire peggio diciamo poteva venire peggio vediamo un po com'è Allora non so se quella spada sia giusta così in realtà sì però c'è questa punta qua che deve essere fatta no dai no dai raga è giusta Semplicemente bisognerebbe fare delle robe qua al centro e io potrei utilizzare la concrete ciano la light blue la light blue forse è meglio Guardate raga che figata già così abbiamo risolto la situazione mamma mia pazzesco guarda che roba Allora il mio iron gold mi sta venendo abbastanza bene è un po particolare però dai si accetta cioè si accetta le diversità delle persone Io invece nel gold block vado a fare una cosa che vi già fatto tu la settimana qualche settimana fa Ok cos'è? Secondo te che cos'è? Gold block una cosa che ho fatto io sai che proprio non mi ricordo No non l'hai fatta proprio nel ghost block hai fatto una roba molto simile in un altro blocco Un orologio? Non è un orologio però poteva essere un'ottima idea in realtà l'orologio Sai che non ho idea di cosa è Ah un alveare No ma anche quella era un'ottima idea cavolo E cos'è non lo so Ti stai dando delle buone idee per i video cioè per le cose che devi far tu È vero hai ragione però non so cosa potrei costruire io Sai che sinceramente non so che cosa fare Io non mi son preparato niente Cioè non ho preparato faccio questo faccio quell'altro Mi son preparato giusto un paio di cose Ma niente di eccezionale diciamo ok Quindi Sbio un golem è bruttissimo Ma non ci fa È proprio brutto Perché cosa ti ha fatto di male? No ma non è colpa mi è uscito così Allora io considero che l'irono come volevo farlo minuscolo Ok Cioè per me l'irono golem era da fare minuscolo Perché poi vabbè anche Anche Non te lo posso dire 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 Dimmi dai Allora devo fare Da qui in poi È 1 2 3 E poi qua si chiude così Perfetto Ah ma c'è per la redstone Io ho intenzione di fare un repeater Di che ci sta Puoi fare quello che vuoi Anche se è tanta stone Puoi fare veramente tutto Nel chill Non ha In questo video qui Puoi fare veramente Hai piena scelta Ti lascio proprio piena scelta Mi piace così Faccio spodere tutto di nuovo Quello magari no Quello direi che non è il caso di Allora se capita capita Basta che non puoi far tutto Basta che non distruggi la mia zona Esatto Vai raga bellissimo 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 proprio Questo ci sta veramente un sacco Io farei una roba di questo tipo Guardate un po Da qui in poi Facciamo che è tipo in 3D Raga che figo che è Mamma mia Pazze scurdo Pazze scurdo Il mio mi piace tantissimo Ti devo dire la verità Allora adesso Ci venire un colore Che sta girando Era la mia Sto male va bene Io voglio fare un micro iron golem Ok Voglio fare proprio un micro iron golem Vediamo se ci riesco a fare Quello che voglio fare Deve essere proprio micro Quindi facciamo Forse addirittura 2 Secondo me Può anche bastare Qui andiamo in là Così Questo non lo sto guardando Questo non mi son preparato Nessun iron golem Sulla sinistra Perché alla fine Non è che ci sia Io era meglio se me lo guardavo Perché così è uscito proprio male Però vai Non importa Non importa Dai Tu quanto sei Vuoi che chiediamo il timer Io direi che il timer Lo possiamo richiedere Però poche volte Ci stai Ok Mi piace Alexa quanto manca il timer Buongiorno Marcello Mi piace Oh buono Io ho già fatti quasi 3 in 19 minuti Io l'ho fatte due Non ho Non ho più Ho fitto l'idea Non ho più l'idea Bellissimo Set end Ok mi serve un po' di concreto Adesso quella rossa Poi mi serve quella nera E dovremmo farci Raga perché in teoria Adesso sto guardando davvero Un iron golem Sulla mia sinistra Però è un iron golem Vero Quindi devo capire un attimino Se ci può stare Questa cosa qua Vediamo un po' Ma sai che Ma sai che Secondo che ho fatto una cosa Bellissimo No raga dai Davvero sei sicuro È veramente 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 tenero Cioè ditemi il contro Ma è veramente tenero Non potete dirmi il contro Allora raga è troppo bello Però lo alzerei ancora di uno Qua E qua ci farei tipo il contorno Con l'iron Quello row Cioè sto cercando di creare un mio golem Diciamo Ci sta Mi piace come idea Ok Ok facciamo così E facciamo così Raga è carinissimo Cioè non potete dirmi il contro È proprio bello È bello bello Però forse farei una spaziatura Tipo da qui in poi La spaziatura Che termini usi Ecco qua Una spaziatura tipo così No vabbè Spettacolo raga Ok ho fatto un bellissimo Iron Golem Secondo me Tutto cutie Bellissimo Ok vediamo se vi piace Raga è bello dai Mi stavano solo delle scale bianche Però di diorite forse Si dai di diorite Perché magari col dettaglio bianco È un po' meglio Allora adesso sto facendo Un altro animale Marci Vediamo se si capisci cos'è Io lo sto facendo Tu in quelle lo stai facendo Nel topax Ok allora no Potrebbe non essere la stessa cosa Potrebbe non essere la stessa cosa Ok Però secondo me È da ampliare un po' Perché secondo me È troppo fino così E se faccio così Ecco così è meglio Ok fatto È difficile da fare questo animale Perché è difficile Eh riesco a capire bene Come è strutturato Allora io sto facendo Una cosa che Probabilmente conosci anche Ok Però non ne sono sicuro Sto provando Raga ci provo Potrebbe non venire come voglio che venga E te lo dico subito Metto già le mani avanti Ma sì nel cielo Non preoccuparti Sto facendo Se te lo dico però non devi farlo A meno che tu non l'avessi già pensato di fare Vai dimmi Il Copper Golem sto facendo Cavolo bell'idea Non la faccio Però è stata una bella idea Non sono sicuro che possa dire decente Perché non è che sono così bravo a fare Ecco è il mio un po' mio torno ed Achille Fare ste cose Ok io faccio proprio fatica Facciamo così 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 Ok prima lo facciamo così E poi creiamo qualcosa di meglio Raga Qui al centro si facciamo Con il Copper normale E ricordiamoci che la testa Di questo Golem qui era più grande Se non sbaglio Di tutto il corpo Se non vuole dire Non mi ricordo Ma che io sinceramente Però mi sa Era un cavolo di mob Bellissimo E non capisco perché L'abbiano eliminato Veramente Non lo savo E lo volevo Era bellita Era bellissimo Schiacciava i pulsanti Schiacciava Esatto E mi pare Ho fatto una pestoppia Mi pare che avesse pure Le braccia che scendevano dalla testa Se non voglio Non voglio una cavolata Oh Non so Raga sapete che comunque Al di là di tutto Alla fine Non deve essere uguale Deve essere qualcosa di simile Quindi ci sta Che posto Dai no raga È carinissimo È super tenero Cerco su Google Oggetti viola Ok Ci chiede C'è GPT Scusa Non fai prima No C'è CPT Mi piace Non ti piace più Basta Hai smesso di Oh Una melanzana Non mi ricordo se era così ragazzi Sappiatelo Potrebbe essere Come potrebbe non essere Sto facendo una roba assurda Ok Cosa stai costruendo Eh io ho fatto il Copper Golem A tutti gli effetti Ok ci sta Adesso non C'ho un golem a sinistra Un Iron Golem E Che è fatto dello stile Del Copper Golem Probabilmente Perché è molto piccolo Quindi sto prendendo un po' Ad esempio da quello Ma secondo me Non è proprio così in realtà Però vabbè Venga quello che venga Considera che Ci sarà quel che è di Cesare Il fatto che non sappiamo il tempo Mi sta veramente distruggendo l'anima Io Sto Panicando Con questa melanzana Raga è carino È carino Non mi potete dire il contrario È molto carino Qua ci mettiamo il rosso Qua sopra Poteva venire peggio Sì Poteva venire meglio Sì Però qua se togliamo un po' i bordi Qua lo facciamo diventare Un pochettino Più Dinamico Diciamo Ok Anche qui Che senso Dinamico Cosa stai costruendo C'è un movimento No no Però capirei dopo Perché così Ok Vediamo Molto più bello raga Così abbiamo fatto un grandissimo golem Comunque Posso dire questa cosa Direi proprio di sì Che possiamo dirla Allora vado nell'azzurrino E faccio una roba del genere Chill End Set End Vediamo un po' Mi sono molto dubbioso Di quello che sto facendo Non so se uscirà bene Ah per esempio Marci Per Cioè se sto costruendo con i blocchi modati Dei minerali Devo usare prettamente quel blocco giusto? Tendenzialmente diciamo di sì Ok Nel senso che dovresti utilizzare quel blocco lì Sì Va bene lo sto facendo Lo sto facendo Poi se usi qualcos'altro va bene Sì sì Non preoccuparti Allora io sto facendo una fontana adesso Ok Sto facendo una fontana E penso possa essere qualcosa di carino Raga io le fontane ero bravissimo a farle Cioè tempo fa mi piaceva troppo fare queste fontane Adesso però mi ci vorrebbe un po' di tempo Per ristudiarmi come si fanno Anche perché bisognerebbe capire il getto Dove va capito? Eh già Però già così potrebbe avere senso Eccolo E qui facciamo l'ultimo cerchiorino Va bene Qui possiamo invece fare Così Qui possiamo fare così Che sale Qui possiamo fare così Bisogna capire poi dove cade l'acqua raga Cioè in base a dove cade l'acqua Secondo me riusciamo a fare Un qualcosa di un pochettino più bello Qui si fa così E qua si mette l'acqua Vediamo un po' dove cade l'acqua Dimmi che cade di Raga Ho un'altra idea Marci Mamma mia Che cosa abbiamo fatto raga Ora mi servono le barriere Non baked potato Mi servono le barriere Perché le barriere? Così che se Cosa si sta facendo le barriere? Devo bloccare il flusso dell'acqua Devo bloccare Ah ok ok Così Così E così E quindi qua metto l'acqua giusto? No Non dove c'è la barriera Ok la barriera è qua La barriera sono waterloggabili Ma da quando? Eh davvero Te lo giuro Non so bevo Ho appena visto una roba Che mi ha sconvolto l'anima Che facciamo così Si sconvolto alla vita Raga abbiamo fatto un ottimo lavoro Secondo me Qui facciamo così E qui facciamo così Perfetto Vediamo un po' se ci piace Raga abbiamo fatto una signora fontana Ed è molto molto carina Bene Andiamo avanti Eh cosa posso fare? Sai che non so cosa posso fare? Mi trovo veramente in difficoltà? Io sto avendo difficoltà a costruire un semino Un semino Ok vado Io sono di item frame Ti dico solo questo Io non ho di google direttamente No già capirei cosa sto per fare Allora mi serve del Raga purtroppo bisogna anche fare delle cose un po' più basic Perché se no qua è finita Esatto Sono 4 e 2 1 2 3 e 6 Si ok 1 2 3 4 E anche di qua 1 e 1 E poi da qui è 6 1 2 3 4 5 6 Che bel semino che ho fatto Bellissimo Hai fatto un semino Stai facendo i semini? Ho fatto un semino bellissimo Mi piace Ho fatto di non prepararsi le cose Veramente panico comunque Porca paletta Potevamo fare un sacco di cose No noi no Non ci prepariamo un tubo Non ci prepariamo noi Perché siamo intupidi No perché è più bello così secondo me Se vuoi possiamo richiedere il tempo Però secondo me mancheranno 10 minuti adesso Vai prova a chiedere il tempo E vedi cosa che esce Quanto manca il timer? Ti restano 10 minuti Ok madonna Ti ho detto 10 minuti esatti Porca paletta Ok vado di qua ragazzi Vediamo Allora devo per forza andare però all'interno di uno di questi qui Non ti guardo tranquillamente Aspettate facciamo F3C Vamos Allora mi serve Cioè eccola Mi serve esattamente questa campionessa qua ragazzi Non so cosa tu stai facendo in questo momento Eh bro Io non te lo posso dire Eh immagino Perché se te lo dico Cosa immagini dai Cosa stai immaginando? Immagino che tu non puoi dirmi queste cose Ma l'idea geniale è che mi è appena venuta per questa roba Tu proprio non l'avrai mai Ma proprio mai 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 Eh prova a dirmela però È un mappamondo No ok non mi sarebbe mai venuto in mente Lo ammetto Ti faccio complimenti a solo per queste idee Vediamo un po' come devo mettermi tipo Però non ci sta raga secondo me Eh esce di un botto Quindi noi potremmo farla che tipo è distrutta Esce di tanto? Eh di un po' si Eh se vai sul nero non preoccuparti dai No vado un po' fuori vado Allora è un po' troppo mi sa Allora qui possiamo fare così Qui possiamo fare che tipo è distrutta Quindi ci metto della TNT Flint and steel Flint and steel Dov'è il flint and steel? Eh eccolo qua Ci mettiamo Flint and steel non c'è Mamma mia che bellezza Ma ha cercato un vero mondo stupendo Ok qua bisogna proprio rompere raga Allora sul nero ci ha detto loco va bene Quindi qua bisogna comunque rompere tutto però Quanto grande stai facendo? Eh questa cosa qui è troppo grande Porca paletta Non ci voleva raga Purtroppo questa cosa qui forse potrebbe condizionare l'operato della mia sfida Qui andiamo un po' oltre sì Quindi bisogna fare... Mettiamo TNT un po' Come faccio sta roba su Minecraft? Me lo spieghi? Non so cosa tu voglio fare Un fenicottero È bello Il fenicottero è bello Ho fatto i diamanti Tu hai fatto i diamanti? Bravo Ho fatto i diamanti Che figo Raga possiamo fare che tipo è un relitto questa cosa Come ci sta un botto raga Mettiamo una qua Vediamo come viene Raga secondo me è fighissimo Cioè l'idea che voglio fare è veramente figa È come se fosse un bioma Con questo relitto all'interno Che secondo me può aver senso Adesso magari lo possiamo lasciar lungo Ma tu senti a TNT che sta esplodendo? No perché cosa è che sta esplodendo? Scusa Eh no sto facendo esplodere delle cose Ok No meno male Non sto sentendo niente Ok qua però bisogna richiudere tutto Sto perdendo troppo tempo Per fare questa sfida Sto perdendo troppo tempo Tu quante ne hai fatte di cose? Non riesco a contrarle in costumento Io poche però Ti può interessare poche Non lo so Io non so veramente niente Allora replace Devo fare il replace Facciamo così Come che si chiama questo? Carino questo fenicottero Perché non me lo toglie? Vabbè questo possiamo lasciarlo Lo stai facendo Marci Ok ce l'ho fatta Scusatemi ragazzi Ero un attimino nel panico Perché non andava Oh in realtà In realtà è molto carino Cioè mi piace l'idea che è venuta fuori Solo che adesso sono in difficoltà Veramente tante in difficoltà Allora mi serve questo qua Che è il tourmaline Potrei utilizzare questo raga Secondo me ha molto molto senso Allora forse un'idea Prendiamo una shovel Ok Facciamo così E facciamo Br Chilling Vediamo se Dimmi che me l'ha messo Ti prego dimmi che me l'ha messo Oddio ragazzi Forse è un po' troppo Cos'hai così fatto Marci? No è che è un po' troppo Quello che è venuto Oddio raga ma sono troppi Ma perché sono così tanto? È uscito quello che vuoi fare? No Non è uscito per niente Quello che voglio fare Ma lo dovrò ottenere per forza Perché se no è un casino Molto bene Molto molto bene Oserei dire benissimo ragazzi Sto perdendo troppo tempo ragazzi Tourmaline ore E questo qui Dobbiamo farlo diventare Tourmaline block Perché non va? Oddio ragazzi Che panico Che panico È successo? Cos'è così fatto? Troppe cose che non vanno Troppe cose Tu non hai idea Cioè sto cercando di fare delle cose Troppo importanti Io sto creando l'albero della vita di smeraldo Anch'io sto facendo letteralmente la stessa cosa Davvero? Sì ma col tourmaline Non con lo smeraldo Ah ok Ho fatto letteralmente Letteralmente la stessa cosa raga Ok con la redstone Che facciamo? Con la redstone facciamo una casa Con la redstone possiamo fare una casa Perché mi prendo i red nether brick E li utilizzo come esterni E facciamo Uno Due Tre Quattro Facciamo come se fosse un po' un bioma Questa cosa qua Mi piace parecchio Tu stai facendo la tnt immagino giusto? Hai già fatto la tnt? No no ho fatto un comparatore Cosa vuol dire? Ma hai fatto un comparatore gigante? Sì Bello Ci sta è una bella idea eh Grazie grazie Non l'avevo capito così Eh sono geniale io Mi serve la door di mangrove La mettiamo qui così Così almeno Sembra E che è rossa banalmente Qui si chiude così E qui raga possiamo fare una cosa di questo tipo Chiudiamo tutto così E sopravacciamo un'antenna di tnt Bellissimo Vada sono contento del mio alberello Mi sta piacendo assai Considera che secondo me mancherà tipo pochissimo Eh immagino Cioè secondo me siamo tipo a Non lo so non lo voglio dire Però secondo me manca poco Siamo così Adesso non dovrebbe partire esatto Se lo metto qui parte Sì Qui parte Qui non parte 1 2 1 2 Potevo farne un sacco di altre cose comunque Solo che non ho avuto tempo Eh sì E il tempo è sempre limitato purtroppo E guardate che carino che è venuto Raga strabello in realtà Io ne ho fatti 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne hai fatti molto più di me Molti Vabbè ne ho fatti la metà Eh no ma ne hai fatti molto più di me 100% Io purtroppo sono un po' indietro Adesso non so quanto manca il timer Ma ne ho fatti molti di meno bro Ok questa l'abbiamo fatta E ci piace direi alquanto Facciamo una stradina magari Uh per loro mi è venuta un'idea carina Io ne ho fatti 1 2 Ah no ve ne ho fatti in realtà io Eh Allora sei messo benissimo Bro ma si un botto Facciamo così Structure Eh per fare una cosa carina Non mi dice che l'ha messo sotto terra Ma perché lo mette sotto terra Mannaggia bro Mannaggia No non mi mette sotto terra le cose Non va bene Oh mamma mia raga Oh mamma mia Poco tempo Poco tempo rimanenti Paste Meno A Possiamo chiedere Alexa quanto manca il timer Vabbè oh Non è malissimo Un minuto e dieci Non è malissimo No ci sta Questo qui lo lasciamo solo così raga Ma chi se ne frega Sì Allora la nederite Il problema è la nederite Il lapislazio La Anche questo ragazzi Come faccio Io non so farlo questo qua Qui potremmo fare una roba di questo tipo 1 2 3 Facciamo così Raga forse mi è venuta un'idea geniale Per concludere al meglio questa cosa Facciamo Walls Blue glass Blue stained glass Mettiamo dell'acqua Ok facciamo anche tipo un biomo oceanico Qualcosa del genere ci può stare Mi metto qui e facciamo Fix water Io ho provato a fare una cosa dorata Ma non è venuta molto bene diciamo Non ti è venuta bene? No perché? No ho provato a fare un ciondolo dorato Ma con le chain è bruttissimo Io qua sto facendo un ruin Non so se mi piace Ah peccato Facciamo una casetta Potremmo fare una casetta minuscola raga Sì 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 Casetta minuscola Casetta minuscola raga Io ho Ho fatto l'idea Non so più che fare Aiuto No io ne ho ancora Però ho troppo poco tempo Cioè non riuscirei a finire È finito il tempo Ah cavolo Sono dovuto fermare Ok loco Vengo a rompere la sabbia centrale Vieni vieni Vado Togli la sabbia Ha deciso di rimanere qua Aspetta un attimo Eh ma che cavolo Eccoci qua Caro loco Allora Hai fatto un caro Iron Golem Che è veramente brutto Lo so Lo so che è brutto Non c'è lo spazio È più simile il mio All'area Iron Golem vero Che il tuo Allora non esageriamo Guarda gli occhi che belli Allora tu hai fatto il ferro Hai fatto il mappamondo Che è molto carino Secondo me le nostre due azzure Sono le più carine Perché ho fatto una fontana Che non si è mai vista E tu un mappamondo Ah il totem Hai fatto qua è vero Il totem ho fatto Il comparatore Qui hai fatto Cos'è questo? Dovrebbe essere un ciondolo d'oro Ma non è venuto molto bene Non è venuto molto bene Questi sono dei semi Ci possono stare L'ape ci sta Mi piace molto anche l'albero Io ho fatto praticamente Gli alberi giganti là Il fenicottero è più figo Cioè per me vince tutto Con il fenicottero Vinci tutto Io invece ho fatto Fontana Iron Golem Copper Golem Qui doveva essere un biom oceanico Ma non c'è stato tempo Uno smeraldo Un totem Una fontana Una casetta di TNT L'albero della vita Che però non è proprio Albero della vita E sono Vabbè Poi c'è un relitto Di un end city Ma questo l'hai fatto col place? Cioè l'hai piazzato qua? No sono andato a prenderlo Nell'end city Sono andato a prenderlo Ah madò Ok Poi qui c'è un mini portale Non c'è stato molto tempo E poi basta Finito Finito tutto E la spada Carino Secondo me ragazzi Sarete voi a decretare Il vincitore di questo video Perché noi ragazzi Ci vediamo domani Con un prossimo video Sempre alle 16 Tra nel sabato Che scendere 18 Ciao Ciao